In questi giorni di agosto le nostre città si svuotano e cresce la solitudine dei tanti anziani che restano a casa. Elisa D'Alto ha seguito alcuni giovani volontari che nella periferia di Roma li assistono. E poi in studio ne parleremo con un ospite. Sentiamo. Che bello vedervi. Veramente con una gioia mi stavo aspettando. Per Vetulia il mercoledì pomeriggio è una festa. È il giorno in cui accoglie Francesca, Alessandro e Silvia, tre ragazzi che ogni settimana si impegnano ad andare a trovare questa signora di 88 anni. È infatti soprattutto d'estate che molti anziani possono soffrire la solitudine. I figli spesso lontani è il caldo che scoraggia anche le attività più semplici. Per questo i Giovani per la Pace, movimento della comunità di Sant'Egidio, organizza incontri di questo tipo nei quartieri periferici di Roma. Vetulia da tanti anni vive da sola a Torre Nova, dove le palazzine nate spontaneamente nel dopoguerra si alternano all'edilizia popolare. Il marito non c'è più, l'unica figlia vive fuori città. Questi ragazzi per lei sono diventati come nipoti. Mi sento giovane quando ci sono loro, non lo so. Non mi sento l'età che ho. L'album delle foto diventa l'occasione per rispolverare i ricordi di una vita. Queste sono tutte le mie amiche. In questi incontri noi giovani dedichiamo un po' di tempo, un po' di attenzioni per essere una presenza per gli anziani del quartiere e in cambio riceviamo tanta amicizia e racconti anche di un mondo che non c'è più. Non solo ascolto, visto il caldo i ragazzi portano anche frutta e tè freddo, ma quello che Vetulia chiede è soprattutto altro. Prima di tutto l'ascolto e l'amicizia, sicuramente l'amicizia, cosa che comunque possiamo fare tutti, tutti quanti i giovani, perché è molto molto semplice. E continuiamo in studio ad approfondire questo argomento con il nostro ospite di oggi, Giancarlo Penza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E quindi fa tornare la voglia di vivere e spesso anche di rendersi utili, perché non dobbiamo dimenticare che c'è una fascia anziana, molto anziana anche della popolazione, che ha molto tempo a disposizione e questo tempo lo può mettere a disposizione per gli altri. Bisogna incoraggiarli. Senta, che cosa chiede un anziano che ha bisogno di aiuto? Quali sono le richieste più importanti? C'è anche tutto un aspetto di piccoli servizi quotidiani, per esempio, fare la spesa, rivolgersi al medico, fare un po' da intermediari con i servizi sociali che a volte sono lontani, distanti dalla vita e dalle case dove vivono gli anziani. Quindi si tratta di piccoli aiuti, ma piccoli aiuti che possono rappresentare un fattore fondamentale. Senta, e invece in quei comuni dove non ci sono centri di assistenza per gli anziani, come si può risolvere il problema? Ma allora, diciamo che intanto in tutti i comuni d'Italia dovrebbe esserci un servizio di assistenza domiciliare, come prevede la legge italiana. Se è difficile raggiungere questi servizi, ci si può rivolgere ai volontari. La comunità di Sant'Egidio è presente in tante città in Italia o nelle parrocchie. Le parrocchie spesso sono mobilitate per l'aiuto soprattutto agli anziani soli. Tante persone fanno visita agli anziani soli partendo dalle parrocchie. Benissimo. Allora, grazie a Giancarlo Penza della comunità di Sant'Egidio. Noi proseguiamo con il nostro giornale.